Amici di ONTV, buonasera e benvenuti. A una nuova puntata di Che Calcio Vuoi? Come promesso è venuto a trovarci il mister Cristiano Lucarelli. Buonasera. Buonasera a te, grazie. Ci stanno sempre Gigi Manini e Gianni Giardinieri. Buonasera. Senza i quali non farei sia la trasmissione. Non lo so. Non lo so. Vabbè, tu sai l'ambiente è questo. Allora, andiamo veloci perché vogliamo fare come l'anno scorso tante domande. A proposito, hai già avventuto un altro record. La puntata con dei ospiti l'anno scorso è diventata la più vista. Prima era Ascoli, Ternana, quella con De Canio in panchina che sbagliò fai i cambi. Aveva il record, ho visto che l'ha superata. Va bene. Bisogna cercare di migliorare. Bisogna migliorare. Allora, comincio io, poi tolgo tutto lo spazio che volete. Noi vogliamo fare un bilancio della stagione che si è conclusa da poco. Stanno giocando i playoff ancora, però la Ternana l'ha finita, la stagione. Noi l'abbiamo da qui valutata positivamente perché alla fine da neopromossi bisognava un po' ambientarsi. Alla fine siamo arrivati decimi, abbiamo scontato diverse cose tra infortuni, covid, qualche arbitraggio surreale, lo definirei, e qualche errore nostro sicuramente. Non ci piove. Abbiamo sfiorato i playoff alla fine. Per noi è positivo. Tu come l'hai vista questa stagione? Io la giudico positivamente. È chiaro che deve essere un punto dal quale dobbiamo ripartire per migliorare posizioni, per migliorare l'espressione di gioco, per migliorare la quadratura tattica. Ovviamente noi arrivavamo dopo qualche annetto in questo campionato e avevamo molte incognite. Probabilmente il campionato dell'anno scorso, aggiunto alla prestazione di Bologna, ci ha fatto fare magari delle valutazioni troppo ottimistiche su quella che poteva essere l'impatto di questa rosa in una categoria superiore. Quindi noi dobbiamo prendere questa annata come un consolidamento in Serie B e da lì cercare di fare uno step successivo, come è giusto che sia. Perché giustamente, come hai detto te, è stato un campionato con tantissime difficoltà. Gli episodi difficilmente ci hanno sorriso in questa stagione. Gli infortuni idem, perché noi abbiamo perso nel giorno d'andata in buona parte all'inizio del campionato Partipilo. Nella seconda fase del campionato abbiamo perso Falletti. E durante il campionato abbiamo perso dei giocatori che per noi si stavano rivelando molto importanti, tipo Sorensen, tipo Capuano. Giocatori che magari negli anni precedenti non avevano giocato molto. L'hanno pagata. L'hanno saltato la preparazione e quindi ovviamente allenandosi anche quotidianamente sul campo sintetico e le tante partite ravvicinate probabilmente abbiamo pagato più degli altri tutta una serie di infortuni nel momento in cui stavamo cercando e trovando anche sotto certi punti di vista la quadratura del cerchio. Quindi diciamo che è stata una stagione di grandissime difficoltà dove veramente ce ne sono successe dentro e fuori dal campo di ogni e quindi io credo che sicuramente il primo luglio quando ripartiremo saremo tutti diversi rispetto all'inizio del campionato precedente. Dove forse ci siamo pullati un po' troppo dei record, dei 18 record che abbiamo fatto, che come ho detto ci hanno fatto probabilmente fare anche delle valutazioni non corrette su tutta una serie. Per esempio, ti faccio sponda, abbiamo visto che nel salto di categoria due certezze granitiche dell'anno della C, la coppia dei bodyguard come erano chiamati, Bobben e Contek. Uno ha giocato poco, uno quasi per niente, addirittura ha avuto un problema e ha finito fuori lista. Quindi il salto si è visto, si è pagato anche quello? Sì, infatti ho detto, tutti noi abbiamo fatto probabilmente presi dall'entusiasmo, non abbiamo lavorato sui dettagli, sul cercare di essere pignoli e magari sul cercare giustamente quello forse anche di gratificare il più possibile un gruppo che comunque l'anno scorso aveva fatto qualcosa di straordinario. Quest'anno ci è servito, l'anno prossimo dovremo cercare di portare quei correttivi sia tattici che anche di innesti di nuovi giocatori che siano assolutamente allenabili, perché poi diventa sempre una gestione personalizzata. Ci andiamo nella seconda parte, ti stuzzicheremo anche sul mercato. No, perché dico, il primo anno che era con l'Albino Leff in Coppa Italia, ti sei dovuto lamentare e dopo sono arrivati un po' di giocatori. L'anno scorso, insomma stagione, con l'Anarnese, un'altra volta ti sei dovuto lamentare e poi è arrivato qualche giocatore. Quest'anno arriveranno subito, speriamo. Spero anch'io, perché comunque così come è emerso nella lettera del Presidente, ci sarà ognuno che avrà dei compiti e delle responsabilità precise. Preciso per i nostri ascoltatori che stiamo registrando di giovedì sera, oggi pomeriggio, avete fatto la conferenza stampa sulla lettera, non è che vogliamo rifare la stessa puntata. Però mi sono cambiato. Beh, anche io. Il punto di massima è il punto di basso, più totale della stagione. Noi abbiamo le nostre teorie. Il punto di massima fino al 94esimo della partita col Frosinone. Quello secondo me è stato il punto di massima perché se noi avessimo vinto quella partita lì, sono convinto che noi saremmo andati a playoff. Anch'io. E Ascoli sarebbe stato un altro tipo di partita. Senza sì e senza ma. Perché stavamo bene, perché non avevamo nulla da perdere, eravamo liberi di testa, potevamo diventare la mina vagante. Si correva più degli altri. Scusa, Regis, che ti ha detto Lillardio? Poi ne hai parlato. No, io me ne sono andato per la partita. Sì, ho visto senato. Sì, ho scappato prima che finisse. Però dopo qualcosa non vi siete detti nulla, eh? No, 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 assolutamente. Qualcuno però ci ha parlato perché ho sentito che... Ho preferito... Ma detti sicuro? Eh, sai. Ho preferito... Ho preferito... No, eh, quindi hai evitato proprio di parlarci. Ho preferito evitare. Il punto più basso penso sia stato il secondo tempo di Ferrara. Perché lì siamo... Perfetti. Lì mentalmente siamo usciti dalla partita. E questo non c'era mai capitato. Cioè noi spesso si è preso purtroppo delle imbarcate, ma siamo sempre rimasti mentalmente in partita. In quella partita lì... Se non fischia l'arbi rischiamo di perdere la T2-3. In quella partita lì ho visto i ragazzi... Paradossalmente si veniva da una vittoria di Parma. Poi ci furono magari anche delle stennazioni del Presidente che non hanno portato tanto fortuna fino ad oggi. Perché anche dopo la vittoria col Perugia sono arrivati, è arrivata un'altra imbarcata a Ascoli. Diciamo che non portano fortuna. No, diciamo che non portano fortuna. Però ecco lì è vero che anche in quella partita perdemmo diversi giocatori per l'infortunio. A Parma, ragazzi, pettinari. Insomma noi alla fine di ogni partita... Poi al primo quarto d'ora avevamo giocato benissimo. Avevamo un bel bollettino di guerra. Ma noi però spesso siamo partiti bene, ma non trovando il gol poi l'abbiamo subito. Anche a Ascoli. Diverse partite sono andate così, dove magari abbiamo approcciato anche bene. Da Como. Col Como in casa. E invece poi ci siamo un po' persi. Lì sicuramente dobbiamo creare una preparazione mentale di un certo tipo. di capire che, come dico sempre io ragazzi, è impossibile che un avversario durante la partita non ci tiri mai in porta. Perché se noi facciamo un amichevole giovedì con la primavera della Ternana, quattro occasioni le ce le fanno anche loro nell'arco dei 95 minuti. Perché uno si distrae una volta, una volta manca la diagonale, l'altro manca da accorciare. Se non erano abituati, io sono l'anno scorso. Diciamo che in una partita, soprattutto in un campionato equilibrato come la Serie B, ognuna delle due squadre ha delle opportunità. È difficile in Serie B trovare una partita monotematica. In generale nel calcio. È difficile. Noi sappiamo che la B, ce lo diciamo sempre, è l'unico campionato dove forse l'ultima classifica può andare a vincere in casa della prima. Quindi noi dobbiamo vivere gli eventi della partita. L'arversario ci può fare gol, ci può mettere 10 minuti lì dentro l'area di rigore. Possiamo magari sbagliare tre passaggi di fila e prendere ripartenze. Ma tutto ciò che accade noi lo dobbiamo interpretare come facente parte della partita. Cioè è la normalità. Invece tu vuoi dire che la prima difficoltà, i ragazzi si scoraggiano. Spesso nel girone di andata, soprattutto durante la fase di apprendistato di questo campionato, rimanevamo schiacciati dagli eventi della partita. Sì, scusa, dopo vi lascio più. La Ternana spesso dà l'impressione che non ha un piano B. Ha un ottimo piano A, che esprime un bel calcio. Anche quest'anno, negli alti e nei basi, però ci siamo divertiti. Non è una squadra che fa annoiare, sicuramente. Però tante volte dà l'idea che non ha un piano B. Che tante volte prende quel puntarello, magari sarebbe servito. Guarda, io anche lì, no? Io però non mi ricordo una volta che dici, potevamo pareggiare, siamo andati tutti all'attacco, abbiamo preso un contropiede e si è perso. Questa non c'è mai successo. Cioè noi quando abbiamo perso siamo andati subito in svantaggio. Ma allora te la metto diversa? Mentre invece, all'ultimo... L'atteggiamento della Ternana non la porta a rischiare spesso, troppo presto, questo andare sotto, no? È lì che dico manca il piano B, magari parto un po' più apportunato. Allora io dico che l'inerzia della partita la stabilisci nei primi 15 minuti. L'inerzia della partita. Cioè magari mandare dei segnali all'avversario, come succedeva un po' l'anno scorso, no? Quest'anno probabilmente non avevamo in B l'impatto che questo gruppo aveva nel campionato di Serie C nei confronti dell'avversario. Quello. È quello probabilmente che c'ha. Però noi, come dica ragazzi, noi dobbiamo essere chiari dall'inizio. Noi vogliamo vincere, noi vogliamo fare la partita. Poi se andiamo a quantificare, dici sì, un atteggiamento più prudente. Però io vedo per dire, anche nei play-off, squadre che hanno due risultati su tre, ma hanno un campo per lo 0-0 e il 90esimo pigliano gola, il 85esimo pigliano gola. Cioè io dico, sarebbe meglio fare la partita, fare la ternana. Quindi ovviamente noi dobbiamo fare uno step successivo, perché abbiamo visto che l'impatto di questo gruppo nella Serie B era un impatto diverso rispetto alla Serie C. Faccio un esempio nella box. Se te prendi un peso medio contro un peso medio e gli arriva un cazzotto, è un conto. Se te prendi il peso medio e lo metti nei massimi e dà un cazzotto, quello dei massimi non si sposta. Allora ti faccio l'ultima domanda. La forza è sempre la stessa. Poi dopo cedo la parola qui a Kik e Krok. Da 1 a 10. Quanto è contata la partita ternana-Pordenone vinta in quella maniera? Penso è stata la ternana più brutta che abbiamo visto quest'anno. Peggio di quelle che hanno perso. Però se ti dico che io mi aspettavo che quella partita fosse così, mi credi? Ma l'avevi detto prima in conferenza da pregarmi. A parte che quest'anno l'hai detto tante volte. Questa è la peggior partita, l'hai detto tante volte. Quello sì, però noi nelle partite dove avevamo tutto da perdere, eravamo un po' più contratti nell'approccio alla gara. Nelle partite dove si vedeva la possibilità di fare il risultato, l'esploit tipo Parma, tipo altre partite, anche il Parma in casa stesso, quando ci abbiamo giocato all'inizio del campionato che venivamo da tre sconfitte, non era il Parma del girone di ritorno, dove ci hanno fatto punti un po' tutti. Era un Parma che faceva paura all'inizio del campionato. Ecco, forse questa squadra, non lo so perché, però gli è mancata la spensieratezza del primo anno di Serie B, dove te ti porti dietro l'entusiasmo. Forse perché è partita male. Dove te ti porta dietro l'entusiasmo, c'erano tante attese. Ci ha pregato Bologna, mister. Sì, sicuramente, io l'ho detto. Infatti, guarda, se noi andiamo a prendere il primo anno, noi ce ne abbiamo perso. In casa con l'Albino Leffe, eravamo tutti con le orecchie basse, siamo partiti, abbiamo fatto il po'. Invece, scusa, mister, secondo me... Quest'anno spero il primo turno di Coppa Italia, prende quattro gole e andrà a casa. Però secondo me invece a noi ci ha fregato, non il Bologna, ma invece ci hanno fregato le prime tre partite, nelle quali la Ternana ha raccolto pochissimo, anche per episodi arbitrali. A Reggio stavano passati a cucinare. E lì, se fossimo partiti diversamente, avremmo avuto sì l'entusiasmo della neopromossa. Invece la neopromossa ha preso subito tre scopole, per vari motivi. Quella con la Reggina, vabbè, lasciamo stare. E lì forse si è generata un po' di insicurezza, secondo me, al di là del Bologna. Però non mi ha risposto ancora. Premesso anche il fatto che noi probabilmente, per il tipo di preparazione che facciamo, saremo sempre più brillanti gli ultimi tre mesi rispetto ai primi due mesi, ecco. Poi qualche giocatore è arrivato. Senti, ti faccio una domanda. Aspetta, dice, quando è contata quella partita, però, col Pordenone? Ma io penso è contata tanto, però secondo me ce n'è una che è contata ancora di più, che è quella col Cosenza. Perché lì, insomma, c'eravamo rimessi un po'... A Cosenza. Rischiavamo di rimetterci un po' nei guai, con il Cosenza in casa, e invece poi cambiavamo modulo. Era una partita, insomma, che era importante sotto tanti punti di vista, perché se non avessimo vinto quella partita lì con il Cosenza, potevamo avere anche un... diciamo, mentalmente, potevamo anche avere un contraccorpo importante. Anche lì l'arbitro ci ha messo le mani? Anche lì l'arbitro ci ha messo le mani, perché l'espulsione di Defendi, che a termine di regolamento, di quegli episodi che abbiamo visti nelle partite della Ternana, meno dieci. Noi... Noi subito è espulso. Io parlando di almeno 17 episodi discutibili in questa... Poi quella era la decisione, eravamo ancora sull'1-0. Noi, secondo me, l'unico, tra virgolette, vantaggio che abbiamo avuto, oltretutto l'abbiamo sfruttato, A, perché vincevamo già 2-0, B, perché l'abbiamo sbagliato. Il rigore con la Regina, che a termini di regolamento è rigore, ma per me non è mai calcio di rigore. E questo io lo dico con Estandri. C'è quello che disse Longo, forse con l'Alessandria, su quella... Quel nostro difensore che andò a saltare, cadendo, toccò l'attaccante dell'Alessandria, forse lì qualche dubbio, cioè ci poteva essere. Ma non lo so, guarda, recentemente non mi ricordo. Pure io con il rigore non lo dò. In questi giorni ho visto un rigore in Benevento-Pisa, che era molto più... C'è stato l'altro giorno, ieri, l'altro, la partita Benevento-Pisa. Gli ultimi dieci minuti c'è stato un fallo analogo dove praticamente Touré... Si, l'ho visto. Con la stessa... è scivolato e è... Praticamente... Però se io, per esempio... Non è mai rigore quello, ma ce l'hanno dati contro Clamorossi. Quello Clamorossi, secondo me, è quello a Pisa, perché... Ma non tanto per il rigore, perché il giocatore del Pisa è uscito anche col ghiaccio. Sì, ma hai chiesto piuttosto se sta bene adesso? Hai chiesto se sta meglio? Sibilli, si è ripreso. No, per dire... Cioè, io... In televisione non si può dire, però mi sembra che il calcio vada... Diciamo... Noi lo diciamo. Ma a partita la prima giornata, quello del Brescia, il rigore? Allora, te nel sottopassaggio, quando io ho cominciato, c'erano dei giocatori un po' più grandi, no? Quando andavi a Castella Mare di Stabia, quando andavi a Potenza, quando andavi a Giarre, in quei tempi lì, si mettevano la Sif Camina sulle mani, ti aspettavano nel sottopassaggio, ti mettevano le mani negli occhi per farti bruciare 90 minuti, per non vedevi te praticamente, erano come se tu fossi cieco. Ora, è vero che si doveva un po'... Però al calcio, se gli levi la parte maschia, i tifosi ti chiedono di sudare, di correre, di picchiare nella maniera giusta, o almeno di non togliere la gamba. Ma io quest'anno, a un certo punto, ero entrato un po' in fissa, andavo a vedere, finiva la partita, partivo per Livorno e andavo a vedere tutte le partite di tutti i campionati professionistici italiani, non c'era una partita dove finivano 11 contro 11, non c'era. non mi sembra un calcio cattivo quello di oggi, no? No. Quindi, voglio dire, c'è qualcosa... Hanno abbassato tantissimo la soglia del fallo, la VAR usciva, è uscita per punire i simulatori, in realtà i simulatori li stanno agevolando. Li sta premiando, li sta premiando. Senti, Cristiano, devo dare una pubblicità. Oh, me la fai fare una domanda, sono passati 17 minuti. Sino adesso... No, perché adesso lui va via, non hai capito? No, 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 deve andare via, c'è da fare. Pubblicità. Te la faccio spesso. Un negozio lube non è un negozio come gli altri. Sarà perché al primo sguardo capisci subito cosa significa essere lube. Sarà perché i nostri sono gli unici negozi certificati. Sarà perché insieme possiamo costruire passo dopo passo una storia sempre nuova, scritta con passione e con l'attenzione che serve a renderla unica. Per questo, in Italia la cucina si chiama lube. Aterni in via Farini di fronte alla Coop. Do you know where emotions come from? di fronte alla Coop. No, 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 no. Dog & Cat è arrivato in Umbria con tutto per gli animali e il loro benessere. Un'infinità di prodotti per animali, accessori, cibo di qualità e grande convenienza. I nuovi reparti cane e gatto con crocchette, umido e snack in tutti i formati che vuoi e tantissime varietà di gusto. Oltre i 450 metri quadrati di esposizione, in un ambiente accogliente ed interamente dedicato ai nostri amici animali. Dog & Cat felici e contenti. Tutto per il cane e il gatto. Un grande e fornitissimo reparto di acquariologia, roditori e volatili. Dog & Cat vi aspetta da Spazio Verde Garden Village, in strada di Marattapassa 91, a Terno. Dog & Cat diy Ti volevo fare vedere questa statistica da un sito che si chiama Database Rosso Verde, che poi lo conosce anche la parte del tifo Rosso Verde, perché smentisce un po' quello che una parte della tifoseria Dernana dice di te, cioè di dire Lucarelli ha una fuori serie e ha ottenuto meno di quello che poteva fare, quindi c'è una parte minoritaria, non è assolutamente maggioritaria, poi c'è una parte che dice con questa squadra messa in mano ad un altro allenatore con più esperienza di serie e la tifoseria Dernana sarebbe andata a fare i play-off. Poi te lo lascio, questo database che è incredibile, mette tutte le partite, pensa, della tifoseria Dernana al 1925, con tutti i risultati, ho preso io gli ultimi 30 anni, dal campionato 91-92 al campionato 21-22, quindi quello appena concluso, per allenatori, la classifica per allenatori, solo la serie B, quindi sono andato a vedere chi è che ha fatto più punti in serie B negli ultimi 30 anni, il primo è Liverani, che però è stato da noi solo 13 partite, la media punti, considera che tiene conto del fatto che c'erano dei campionati con la vittoria che dava i due punti, quindi questo ne tiene conto, due punti per la vittoria e un punto per la vittoria 0-5 per il pareggio, ma detto questo è un discorso metodologico, insomma Liverani è quello che fa meglio, ha una media di rendimento del 69%, però 13 partite in tutto, poi arriva Bolchi nel periodo a cavallo degli anni 2000, quando ancora c'era uno squadrone, erano i tempi da carini, tu giocavi, anche lì ci salvò, poi c'è Agostinelli che fa il 55%, sempre però con giocatori come Imenes, ce l'aveva già Agostinelli, Cargià, Grabbi, quindi gente di altissimo livello, poi con 74 partite quello che si avvicina di più a te come numero complessivo di panchine, Beretta fa 54%, però Beretta anche qui, mi ricordo bene, c'era l'anno che abbiamo perso la Serie A, l'anno che io ho giocato contro la Ternara che era a Livorno che abbiamo vinto il campionato, poi c'era Esposito, Giampa, i centrali erano… Nicola a sinistra, era l'anno che dobbiamo mandare in Serie A, Carlato, Scarpi, i brevi, Grava, Ferraresi… Era l'anno che dobbiamo mandare in Serie A, eravamo primi, alla prima giornata di ritorno eravamo primi, no per dire, Volgobello, Zampagna, se c'è già direi che… Infatti eravamo primi a un certo punto, e poi arrivi tu, e poi arrivi tu, praticamente sei solo Borgnici, ma è 17 partite, arrivi tu e fai praticamente Lucarelli 38 partite, 51 e 32, primo anno… Con questa Serie B… Infatti dopo ho fatto anche la Serie C… Ti sei lasciato dietro, in questa classifica, gente come… e ci aveva squadre simili della tua, Breda, che ci aveva già, per esempio, Falletti, primo anno… Ti sei lasciato dietro Tesser, ti sei lasciato dietro Toscano… Beh, anche lui, perché noi ce l'abbiamo avuto mezzo… Toscano, per esempio, 67 partite in Serie B, 44… Poi, vabbè, altri… De Canio, vabbè… Del Neri… Del Neri ha fatto solo 9 partite in Serie B con noi, però te lo sei lasciato dietro… Però 9 partite… Clagluna… Clagluna… Se invece facciamo la classifica degli ultimi trent'anni, di tutti i campionati, quindi anche la tua Serie C, allora l'Istra vince, perché di fatto, a parte Liberani con le solite 13 partite, tu hai un rendimento su 80 partite, compresse la Coppa Italia e tutto quanto, hai fatto 67,50… Quindi, per dire, e ti invito a questa riflessione, che quando una parte del tifo dice che, magari con un allenatore diverso da Lucarelli, la Ternana poteva andare con la piove in bocca ai play-off, secondo me sta dicendo una boiata, perché è una questione di numeri, no? Penso che da questo punto di vista… Non lo dice solo una parte del tifo… Diciamo che, secondo me, sono più valutazioni fatte di pancia, no? Eh… Perché sicuramente gli allenatori più bravi di me è pieno il mondo, questo non è che io posso contraddirlo, anzi, io mi sono sempre definito un aspirante allenatore, quindi non è che ho… però… io per esempio dico… ci sono tantissimi… e io ho avuto anche tantissimi bravi allenatori, anche da calciatore, ma potrei farvi 5-6 nomi anche di allenatori che sono dal punto di vista teorico bravissimi, insegnano a Coverciano, però sono anni e anni e anni che non allenano, quindi… Non ce lo fanno… Non è solo esperienza, non è solo… a volte magari è meglio avere un allenatore con poche idee, ma che riesce a trasmettere al gruppo, che riesce a creare un gruppo, riesce a farsi voler bene ai giocatori, cioè… lì… io penso che il mestiere allenatore sia un insieme di tante cose, non c'è che quello più esperto vince, non c'è che quello più bravo tatticamente vince, non c'è che quello più… che riesce a far più gruppi o più spogliato io vince… tutte queste cose le devi mettere insieme, cioè un allenatore deve essere definito per un insieme di tante cose. Io credo che… ma non è che lo dico perché voglio… io non sono contento perché io sono un ambizioso per natura, no? Dicevo oggi coltivare sogni, io nella realtà sono riuscito a fare meglio di quello che sognavo, perché io ho giocato con una maglia del Livorno, sognavo da bambino di portare il Livorno in Serie A, l'ho portato a un Coppa UEFA. Sognavo di arrivare in nazionale, non ci sono arrivato con la maglia dell'Inter, media della Juve, ci sono arrivato con la maglia del Livorno. Sognavo di essere uno dei giocatori più… diciamo uno degli attaccanti più… prolifici… prolifici della Serie A, ho fatto il capo cannoniero in Serie A. Sono venuto a Terni per vincere il campionato, abbiamo fatto 18 record. Potevamo chiudere la stagione vincendo la Supercoppa, l'abbiamo vinta nel derby. Quest'anno abbiamo dato 50 punti e ne abbiamo fatti 54, quindi io paradossalmente nella realtà ho fatto meglio di quello che avevo sognato. Alt. Tu hai detto… scusa, mi riaggancio a quello che hai detto tu prima. Comincia la stagione, pronti dici, obbiettivo nostro è fare 50 punti. Smentito da nessuno. Non mi risulta che il Presidente in quella fase ha detto no, che dici, occhi per lui. No, ad un certo punto è scappato fuori che questa squadra doveva arrivare addirittura o prima o seconda direttamente. E per non arrivare ai playoff è stato una lesa maestà. Io vorrei capire che è successo? Abbiamo comprato 18 giocatori? No. Abbiamo preso uno e secondo me serviva anche qualcosetta di più, però… facci capire perché… No, io penso che… Perché io capisco che il Presidente parla di ciò che gli pare, però uno vorrebbe anche capirci qualche cosa. Io penso che è successo un po' come è successo dopo la partita di Coppa Italia di Bologna, cioè le ultime sette giornate ci hanno portato dentro un po' di rammarico, no, della serie… Forza. Se avessi fatto prima, se si poteva fare… Poi, in effetti, se noi si va a vedere i numeri, io dico, chi ha vinto il campionato ha fatto 4-5 vittorie più di noi, non tantissime. Sì. Chi ha vinto il campionato ha fatto gli stessi gol che abbiamo fatto noi. Eh sì. Chi ha vinto il campionato ha subito una ventina di gol in meno, 20-25 gol in meno rispetto a quelli che abbiamo subito noi. Paradossalmente noi con i 20 gol abbiamo subito in 5 partite. Perché il Lecce ce ne ha fatti 7, l'Ascoli ce ne ha fatti 8 e il Frosilone ce ne ha fatti 5. Il totale fa 20. Quindi, per dire, no… Poi ci stanno i 4 del Vicenza. Poi, noi abbiamo fatto un conteggio che ci sono… ci sono state, mi pare, noi in 9 partite abbiamo subito 34 gol, mi pare. Nel restante del campionato ne abbiamo subite molto meno. Io dico che… è vero che sulla carta ci sono state un paio di formazioni che si sono qualificate per i play-off. Sì, ma… che probabilmente… Se ci arrivano Frosilone e Parma allora va bene? Che discorso è? No. Nel senso. Perché su carta… su carta c'erano anche quelle più forti. Assolutamente sì. Però, in effetti, diciamo, ci sono state le squadre che magari sulla carta, forse… forse, perché, ripeto, noi è vero che abbiamo 3-4 giocatori di livello, però sono giocatori che negli ultimi anni avevano giocato poco e andavano rilanciati. Donnarumma, Martello… Pettinari l'anno scorso non ha fatto tutte queste partite nel Lecce, Donnarumma non ha fatto tutte queste partite nel Brescia, quindi Sorensen era, diciamo, un giocatore da recuperare, Capuano era da recuperare, avevamo tante incognite di giocatori che dovevamo valutare nella Serie B, come ho detto prima ci è mancato Partipilo nella prima parte, ci è mancato Falletti, noi abbiamo concesso tanti giocatori ai nostri avversari, ma al 94esimo della partita con Fosinone noi avevamo grossissime possibilità di andare a playoff. Io ho visto l'altro giorno una dichiarazione di Vigorito, presidente del Benevento, che l'anno scorso era in Serie A e spende 50-60 milioni l'anno per la squadra, no? Mi hanno fatto la domanda che il Benevento probabilmente nelle ultime 3 partite ha buttato via il campionato, perché perdendo con noi in casa, perdendo con la spalla in casa… Però ancora, vedi. E perdendo l'altra… Lui ha detto, noi abbiamo pensato di fare una squadra che potesse giocarsi le sue possibilità di arrivare in Serie A, tuttora a playoff noi ci stiamo giocando le nostre, quindi siamo perfettamente in linea con gli obiettivi di inizio stagione, poi se si arriva a primi o secondi o si vince a playoff non cambia. Noi avevamo detto che volevamo allestire una squadra che lottasse fino all'ultimo per andare in Serie A, lo stiamo facendo, quindi per per dire, no? Noi probabilmente dobbiamo riuscire tutti, nessuno escluso, no? Perché io in porti il tifoso della Ternana, in questi due anni l'ho conosciuto, no? Alla fine della partita che perdi, se ci avesse il mitra a mano il tifoso della Ternana ci sparirebbe a tutti ma perché è giusto che sia così, ma perché l'amore per questa squadra fa sì che al 95esimo della partita, se la partita è andata male apriti cielo, no? Ecco, forse noi dobbiamo riuscire a gestire meglio il post partita e ci metto tutti, non escludo nemmeno, non escludo il presidente, non escludo nessuno. Cioè noi, quando io l'anno scorso dissi, forse è meglio se i primi due giorni la sbolliamo, qualsiasi cosa succede, poi parliamo. Aveva funzionato. Aveva funzionato, ma probabilmente è saggio fare così, soprattutto in un campionato come quello di quest'anno, dove se non sbaglio ci sono stati 9 o 10 turni infrasettimanali e noi l'abbiamo fatto quasi sempre con gli stessi effettivi. Te rifaccio il tempo a fare una domanda? No, no, fai, fai. E quindi non era facile, non era facile. Le squadre che sono arrivate a noi, Ascoli, Perugia, al contrario del nostro, gli episodi li hanno spesso sorriso. A noi gli episodi ci hanno spesso voltato le spalle, la differenza probabilmente sta lì, se no noi avremmo potuto partecipare tranquillamente ai pre-off. E a Chiosa, scusa, è una nota, non è una domanda, la fai tu. Perugia quante partite ha vinto al 98? No, io ti dico, più che altro, delle sette squadre che ci sono arrivate, no, nove squadre ci sono arrivate davanti, sei hanno spesso più di noi. Cioè è uscita la classifica proprio della Serie B. Le uniche tre che hanno spesso di meno sono Ascoli e Pisa, ma stanno in B da anni, quindi c'è una squadra già strutturata. E l'anomalia è il Perugia. Anche lì vorrei fare subito solo un'eccezione. Noi abbiamo 7-8 giocatori fuori rosa. Cioè che noi paghiamo, ma qualcuno l'ha detto. Qualcuno l'ha detto. Un conto è dire spendere 7 milioni e siamo in 20. Un conto è dire spendere 10 milioni e siamo in 40. C'è una riferenza. Fammi dire una cosa. Lei ha sottolineato. Fammi dire una cosa. Dunque, tu sai, non so se lo sai, ma chi ci segue lo sa, durante il campionato abbiamo detto più volte, all'interno della società ternana, vero uomo di calcio. Comunque chi capisce più di calcio è Lucarelli. Quindi sai che di questo lo abbiamo detto tante volte. Però io in questo momento, siccome fino adesso abbiamo parlato solo bene di te, mi sento di farti un paio di domande per volerti mettere un po' in difficoltà. Allora ti volevo chiedere due cose. La prima, se oggi rifaresti la formazione che hai fatto quel giorno a Cosenza. E la seconda, se ti sei pentito durante la stagione di un paio di conferenze stampate, quelle che hanno suscitato un pochino più rumore all'inizio del campionato, nelle quali forse sembravi un pochino, stasera c'hai una serenità incredibile, lì sembravi un pochino nervoso. Alt, risponderà dopo la pubblicità. Non ti faccio parlare!